La Pilkington rivolge un appello alla politica per fare squadra e superare insieme la crisi. Nell'incontro in azienda a San Salvo con gli attori economici, le associazioni datoriali e le istituzioni, il presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio, fa il punto sull'uso degli ammortizzatori sociali e del contratto di solidarietà nella vetreria più grande del mondo e anche sul piano di ristrutturazione aziendale. Perché mai come in questo momento fare squadra e cercare che tutti assieme cerchiamo di costruire qualcosa che possa difendere il lavoro in questo territorio è mai così importante. Devo dire che questo appello poi ha avuto un riflesso importante non solo ovviamente in Regione ma anche a Roma dove si è capita l'importanza di questi nuovi strumenti di ammortizzatori sociali quali contratto di solidarietà molto innovativo rispetto ai canonici e classici ammortizzatori usati dalle aziende. E mi aveva spaventato, ci aveva spaventato questa notizia perché in bozza della legge in corso di approvazione proprio in queste ore al Senato c'era stato l'abbassamento dell'integrazione salariale. Io direi che abbiamo fatto tutto il possibile. Devo dire che in Commissione Senato ho la certezza che il nostro emendamento perché abbiamo aiutato i politici a scrivere l'emendamento abbia avuto una sua prima approvazione. Bisognerà vedere l'Aula e l'Aula è principe su queste decisioni e la speranza è che tutto questo che abbiamo fatto possa essere un passo in avanti per cominciare l'anno nuovo nella maniera migliore. All'incontro in azienda ha preso parte anche il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. Beh, considerando l'importanza che questi ammortizzatori in deroga hanno avuto per il nostro territorio Marco Vecchio ha fatto un appello a tutti i parlamentari affinché venisse ripristinato venisse portato all'attenzione del Parlamento l'emendamento che ripropone il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. E' assolutamente... noi spichiamo l'approvazione di questo emendamento perché in questo momento in cui serve resistere in cui serve tenere, come dire, reggere la crisi, gli ammortizzatori che sono un fenomeno, come dire, una peculiarità tutta italiana non esiste in Europa un altro paese che ha un sistema di ammortizzatori come il nostro bene, abbiamo bisogno più che mai per farci trovare poi nel 2014, nel 2015 quando la crisi avrà in qualche maniera diminuito i suoi effetti negativi pronti per la crescita. Grazie a tutti.